Lo sapete qual è il cane più pericoloso del mondo? Ecco la lista delle razze di cani considerate tra le più aggressive. Al primo posto abbiamo l'American Pitbull Terrier. Al secondo posto abbiamo il Rottweiler. Al terzo posto abbiamo l'American Staffordshire Terrier. Al quarto posto abbiamo il Fila Brasileiro. Al quinto ed ultimo posto abbiamo il Dogo Argentino. Cosa ne pensi? Scrivicelo nei commenti!